Bebe, bebe Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale Io sono Nicolo e questo qui è Ivan il nostro regista Ciao Ciao Il terzo sul carabus granulatus e il quarto sulla clevina fossor No ma guarda come il cane è solvenza Aspetta Marco Guarda che il cane è il cofero alla lingua Hai che lì così bello vai Grazie Detto questo cominciamo La quinta specie che vi mostro è questa Questo insetto è un Calatus fushipes Un carabide che può raggiungere una lunghezza di 14 mm Ed è diffuso in un areale molto vasto che va dalla Spagna al Giappone Vive generalmente in ambienti aperti come prati e campi ma può essere trovato occasionalmente anche nei boschi A parte quella nominale esistono altre 5 sottospezie di Calatus fushipes che sono Algiricus diffusa in Algeria, Marocco e Tunisia Disjunctus diffusa in Turchia Grecus che è quella che ho io ed è quella delle più vaste infatti è diffusa in Albania, Bulgaria, Spagna, Francia, Grecia, Italia, Turchia e Ucraina Cosa è pepito? Cocchi è qui Cocchi è diffusa in Libia e infine Signaticornis diffusa in Italia, Francia e Spagna Il Calatus fushipes non è in grado di volare E ha un corpo di colore scuro quasi del tutto nero A parte il bordo del pronoto che è di colore rossiccio Le zampe hanno un colore variabile che va dal nero al rossiccio Mentre i tarsi sono sempre più scuri Le elitre sono caratterizzate dal fatto di avere setore nella terza, quinta e settima intestria Cosa che distingue il Calatus fushipes da altre specie dello stesso genere Questa specie passa all'inverno allo stadio adulto sotto le pietre o nel terreno Ed entra l'accoppiamento e avviene in primavera In seguito la femmina depone le uova in una cella costruita col fango all'interno del terreno Le larve che nasceranno dovranno compiere tre mute prima di impuparsi E usciranno dal terreno come adulti attorno a giugno e luglio L'aspettativa di vita di questa specie è di circa un anno Il Calatus fushipes è una specie univora allo stadio adulto Che si ciba sia di vegetali, come cereali e ai semi di altre piante Sia di altri invertebrati come bruchi, lumache e larve di altri insetti, afidi e formiche Le larve sono parassitate dall'immenottero dalla specie Phenocerphus viator E dal ditero frontina austera Il Calatus fushipes è una specie di urna legata ad ambienti poco umidi Ed è molto resistente, tanto che è in grado di resistere ai pesticidi Detto questo il video si può concludere qui Spero che vi sia piaciuto, in tal caso mettete un mi piace Io e Peppe vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo video Ciao Ciao